Ciao, cos'è uno stage in altura? Un training camp, tu vedrai i professionisti lo chiamano training camp, cioè prendono i professionisti, li portano in quota, perciò sopra i 1500 metri, e li fanno allenare per una decina di giorni, 15 giorni a quella quota lì, quello aiuta a aumentare i globuli rossi nel sangue e aumenta la performance. Ma alla gente normale permette di pedalare in posti incredibili, allora io una volta all'anno faccio un training camp, o meglio uno stage in quota, possiamo chiamarlo così, possiamo chiamarle ferie, possiamo chiamarle un po' come vuoi. Nel video di oggi non ti dirò nulla su come si fa o come affronto io uno stage in quota, perché? Perché da dopodomani io sarò a Livigno per 10 giorni e ho deciso di fare una cosa che non so, probabilmente me ne pentirò. La sera cercherò di fare un video dove ti racconterò la giornata, come è andata, con che bici sono uscito, quanti chilometri, che altimetria, tutto quello che ho fatto, ti farò magari vedere qualche pezzettino della giornata e poi ci studiamo il giro del giorno successivo. Alla fine di questi 10 giorni tireremo le somme per vedere un po' quanti chilometri abbiamo fatto, com'è andata, com'è andata tutta la situazione. Livigno. Livigno è un posto molto particolare. Lì nei dintorni di Livigno, come salite importantissime, abbiamo Stelvio, Gavia e Mortirolo. Io ho già fatto lo Stelvio dai due versanti, Bormio e Prato allo Stelvio, il Gavia da tutti e due i versanti e il Mortirolo dal versante duro, da Grosio, che è il versante duro. Mi manca ancora lo Stelvio dal versante svizzero, che voglio fare quest'anno, e magari lo facciamo assieme, e poi tante altre belle salitelle. Quest'anno voglio girare un po' di più sulla parte svizzera, che è quella che nel tempo ho tralasciato un attimino. Diciamo che per uscire da Livigno, dal punto di vista, se vuoi organizzarti uno dei primi stage in montagna, una delle tue prime ferie in montagna, io ti sconsiglio Livigno. Non peraltro, Livigno è stupenda, ma perché logisticamente per uscire da Livigno tu devi fare per forza due passi. Cioè due passi, o uno o l'altro passo. E si parla comunque di altimetrie abbastanza già importanti e pronti via appena esci dalla casa o dall'albergo. Mentre se stai a Bormio, il paese non è come Livigno, di certo, però dal punto di vista ciclistico hai tutto lì, ed è, secondo me, logisticamente Bormio è in assoluto il migliore. Se parliamo di ciclismo, se parliamo di ferie fatte con la moglie che non va in bici, ti consiglio vivamente di andare a Livigno e soffrire tutte le volte che devi uscire. Perché quantomeno tu soffrirai per uscire da Livigno, ma quando torni tua moglie è contenta, perché si è fatto un giro in centro dove c'è un sacco di negozi, dove è l'unico posto di montagna, dove c'è un centro molto grosso, dove le donne possono scorrazzare con quella tesserina, sai, di plastica rettangolare, con la striscia magnetica. Ecco, con quella, tu, una donna, gli dai quella tessera lì a Livigno. Boh, tu stai dieci giorni comodo, che può succedere qualsiasi cosa che problemi non ne hai. E quindi, niente, adesso devo andare a casa, fare una delle cose più noiose che io conosca, perciò manutenzione alla bici, perché ovviamente le devo un attimino mettere a posta. La bici da strada è già pronta, ma la mountain, devo farci dei lavori, copertone, pastiglie dietro, ho la scalpel, porterò su la scalpel, che è completamente da lavare, copertone da cambiare, pastiglie dietro da cambiare, spurgo sulla chiusura della forcella, sto schifo che ci hanno montato la RockShock, verifica del liquido di tubeless, pulizia della catena, ingrassaggio e tutto, mentre la bici da strada è già pronta, con i rapporti adeguati, perché lassù, ragazzi, non si scherza, lassù sono salite mortali, quindi sono pronto. Cosa mi porto, oltre ovviamente alla bici e tutta l'attrezzatura, fondamentale il rullo, quello per la schiena, che ti ho fatto vedere in altri video, magari ti metto il link qua sopra, quello è fondamentale per il recupero, e una bilancia per controllare il peso, per cercare di non scendere troppo, perché in dieci giorni di allenamento, con tanta altimetria, il rischio mio è di scendere tanto di peso, nonostante mangio tanto, però comunque il mio rischio è quello, quindi la bilancia sicuramente la porterò, una volta completati i dieci giorni, troverete questa avventura, tutta in una playlist, che dire, ci vediamo domenica sera, quando arrivo su, vediamo se già domenica riuscirò a fare una sgambatina, giusto per iniziare ad acclimatarmi, perché la parte fondamentale, è più importante, cercare di acclimatarsi alla quota, il più presto possibile, io ho iniziato a fare giri in quota, cercando di stare sopra i 1500-2000 metri qua da noi, che comunque si può fare, per iniziare ad abituare il corpo, il fisico alla quota, che sembra una sciocchezza, ma pedalare sopra i 2000 metri, si fa veramente fatica, lo stelvio è alto, e quindi vabbè, comunque dai, man mano vi faccio vedere il tutto, ci vediamo domenica, ciao! Ah sì, dimenticavo una cosa, scusate, se mi seguite su Strava, potrete vedere a fine giro, ogni dato appunto del giro stesso, quindi chilometri, pendenze, e tutto quanto il resto, quindi vi consiglio di iscrivervi a Strava, se non l'avete ancora fatto, è completamente gratuito, e seguirmi su Strava, per vedere man mano, quello che farò, e ovviamente seguitemi su Instagram, dove pubblicherò un bel po' di storie, con panorami, e via dicendo, bene dai, vi aspetto, ciao!